Una pioggia di denaro mai vista prima tra recovery plan, fondi strutturali ma anche competence center e area di crisi complessa. Per i segretari regionali di CGL e Cisle Will un'occasione irripetibile per Torino e per il Piemonte per provare a scuotere una regione che nell'anno del covid ha visto 65 mila precari, in gran parte donne, perdere il lavoro e la concessione di ben 371 milioni di ore di ammortizzatori sociali. Una regione che attualmente ha situazioni di crisi aperte che coinvolgono 4 mila lavoratori dalla ex Embraco a Cerutti. Per i sindacati è necessario puntare ancora sull'automotive, investendo su nuove forme di mobilità, elettrico sì ma anche idrogeno e ancora digitalizzazione, ambiente, salute, infrastrutture a partire dalle linee Canavesana e Torino Ceres e dai corridoi europei e le politiche del lavoro che secondo CGL e Cisle Will devono ripartire da un serio censimento volto a individuare le figure professionali realmente carenti in un mercato del lavoro, quello piemontese, che vede una disoccupazione all'8,4%, due punti in più rispetto a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.